Come annunciato in campagna elettorale, da oggi l'ufficio del sindaca si è trasferito qui a Palazzo di Città. In questo modo sarò più vicina a tutti i dipendenti della pubblica amministrazione comunale che aspettavano peraltro con ansia questo momento. Potrò essere così nel pieno del cuore pulsante della città, vicino a tutti i miei collaboratori e insieme a tutti i dipendenti cercheremo di ridare nuovo impulso e forza vitale ad una macchina che si è un po' arretrata negli ultimi tempi. Insieme cercheremo di capire le criticità e in questo senso sarò ben disponibile ad accettare tutti i suggerimenti che possano aiutarci a trovare quelle soluzioni per alleggerire e snellire la macchina amministrativa.